È il più giovane parco d'Italia e il suo emblema ne è la conferma, una cicogna. Dopo circa un anno di lavoro e la valutazione di oltre mille proposte, la Commissione ha decretato il vincitore del concorso di idee. Ho trovato che la cicogna potesse essere un animale rappresentativo. Ho voluto rappresentare soprattutto tutto quello che è l'ambiente del parco dell'Apenino Lucano, che è un ambiente umido, ci sono tantissime alture, ci sono le murge di Santo Ronzo. Il commissario del parco ha manifestato la speranza che il logo ufficiale possa essere condiviso da tutti e sentito come immagine identificativa per le comunità. Abbiamo mille e 86 proposte, è stato un risultato molto positivo, superiore alle aspettative. Stiamo crescendo e spero che già con questa giornata il parco cominciasse anche nei Lucani che diciamo una consapevolezza in più di questo modo aggiunto che questa terra per quanto riguarda l'ambiente in generale. Dobbiamo fare tutti quanti insieme, amministrazione, ente parco, uno sforzo sempre forte affinché questo nuovo brand del territorio della Val d'Agri diventi una leva di opportunità per un territorio. Dobbiamo fare tutti quanti insieme.